Giovannino Perdigiorno di Gianni Rodari Gli uomini di gomma Giovannino Perdigiorno, viaggiando in cavallo a dondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Era un paese instabile, acrobatico, insomma, era giusto il paese degli uomini di gomma. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano anche in medio di un pallone. Se cadevano, si rialzavano senza una sbucciatura. Di picchiare il capo nel muro, non avevano paura. Avevano di gomma le mani, i piedi, il naso, ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa che ci avete? Aria, naturalmente. E come fate a pensare? Non pensiamo per niente. Ecco, volevo ben dire, il paese pareva bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello. Ecco un'importante. Ewegen? Ecco. E온? Eaque? Grazie.